Ciao ragazzi, buonasera a tutti dal vostro Tovici! Ciecie! Ragazzi, nuova rubrica dedicata al gruppo Weita Winning Eleven Italian Friends Ragazzi, vi invito ad iscrivervi se siete interessati ovviamente a giocare online con noi Non so se ricordate il vecchio Winning Eleven per Playstation 1 Noi lo giocheremo tramite emulatore, giochiamo online, facciamo un sacco di tornei tra cui la mitica Master League che voi sicuramente facevate ai tempi offline noi giochiamo online, vi invito ad iscrivervi, vi rimango il link sotto del gruppo e della pagina Weita andiamo a fare ragazzi un video repilogo sulla prima settimana che è trascorsa e vediamo un po' i risultati, alcuni risultati sono stati clamorosi vediamo Axel, Alessio contro Angelo, Angelo vince per 5 a 2 poi Mirko perde clamorosamente contro Mimmo per 1 a 0 Lorenzo batte Nicolò per 3 a 1 Davide contro Charlie Brown, Salvatore, Charlie vince per 4 a 2 contro Davide Frank contro Paolo, 1 a 1, bel pariggio per Frank Axel che vince contro Mirko per 2 a 1 Lorenzo che viene battuto da Angelo per 5 a 2 Davide che batte Mimmo per 3 a 2 Frank contro Nicolò, Frank batte Nicolò 2 a 1 e Paolo batte Charlie Brown 2 a 0 la classifica per ora recita, questo è il Gione A la classifica per ora recita Angelo ha quota 6 punti con 2 partite giocate Paolo ha 6 punti con 4 partite giocate visto che comunque siamo già nella seconda settimana Frank 4 punti con 2 partite giocate Mirko con 4 punti con 4 partite giocate Mimmo con 4 punti, 3 partite giocate Charlie 3 punti con 2 partite giocate Lorenzo 3 punti con 2 partite giocate Axel, Alessio 3 punti con 2 partite giocate Davide 3 punti con 3 partite giocate Nicolò ferma a quota 0 ancora dopo 2 partite giocate andiamo al girone B dove vediamo, vediamo un po' ragazzi la prima settimana che è stata giocata allora aspettate un attimo eccola qui, eccola qui allora vediamo i risultati Domic contro Norman 0 a 0 bel pareggio questa, è stata una partita molto tosta Nino batte Fabio 5 a 0 Alessandro batte Luciano 4 a 2 Ciccio batte 2 a 0 il prof Luca Domic batte 3 a 1 Chris Nino batte, scusate Nino pareggia con Norma risultato clamoroso 1 a 1 Ciccio perde contro Fabio 1 a 0 e Luca viene battuto da Luciano per 3 a 1 la classifica per ora considerando le partite che sono state giocate anche della seconda settimana così recita Domic 7 punti con 3 partite giocate Ciccio 6 punti con 3 partite giocate Alessandro 6 punti con 3 partite giocate Norman 5 punti con 4 partite giocate Nino 4 punti con 2 partite giocate Chris 3 punti con 3 partite giocate Luciano 3 punti, 3 partite giocate Fabio 3 punti con 2 partite giocate e Luca è ferma ancora a 0 3 partite giocate Luca riprenditi presto allora ragazzi questo è il video riepilogo della prima settimana ci vediamo alla fine di questa seconda settimana per un altro video riepilogo un saluto a tutti ragazzi dal vostro Topic 10